Un saldo negativo di 1.788 imprese pari a una perdita di circa il 9% del PIL. Questo in termini numerici il risultato prodotto dalla crisi in Umbria. A rivelarlo una ricerca condotta da CNA Umbria in collaborazione con il Centro Studi Sintesi. A restare sul tappeto sono state 2,1% delle imprese Umbria, afferma Francesco Vestrelli, responsabile regionale di CNA Produzione, un dato comunque inferiore a quello registrato su scala nazionale. meno 2,6%. Le perdite assolute più vistose hanno investito il settore delle costruzioni in meno 1.209 imprese, l'agricoltura meno 1.755, i trasporti meno 229. Il manifatturiero, pur avendo perso 470 imprese, ne conta ancora 8.344, pari al 10% del totale del tessuto imprenditoriale. All'interno del comparto manifatturiero diminuiscono in particolare il sistema moda, che perde 155 unità, la metallurgia e la meccanica che arretrano di 162 e il settore legno arredo che retrocede di 187, mentre crescono soprattutto le imprese dell'agroalimentare, più 40 aziende, quelle che fabbricano macchinari e apparecchiature meccaniche, più 58 e quelle del settore energia elettrica, gas, che aumentano di 169 unità. La ricerca evidenzia anche un ridisegno della composizione del tessuto imprenditoriale a favore dei servizi, dai quali tradizionali, a quelli della persona, da quelli innovativi a quelli commerciali. Ma il manifatturiero continua a svolgere un ruolo determinante nella nostra regione. In questi anni molte imprese del settore hanno saputo fare la propria parte reinventandosi, ristrutturandosi, trovando nuovi sbocchi. E i dati sull'occupazione, che segnano una ripresa, più 565 posti di lavoro nel primo semestre 2015, in settori diversi dall'edilizia, stanno a testimoniarlo. Noi crediamo che sul manifatturiero si debba continuare a puntare, in Umbria, spiega Simone Mazzocchi, presidente regionale del CNA Produzione, arriveranno risorse importanti provenienti da fondi europei che, se verranno messe a leva, potranno giocare un ruolo predeterminante per promuovere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della regione.